Cari carissimi amici e soprattutto amici di Roma, la mia città, oggi vi faccio vedere la condizione della strada Palmino Togliatti, grandissima Palmino Togliatti, come è ridotta e come è sistemata. Allora questa strada la percorrono quasi tutti, scusate la mano, ma purtroppo sto riprendendo così alla buona, questa strada è molto percorsa, però il problema è che qualcuno si è dimenticato di rifarla, perché sembra la via del mare, cioè piena, strapiena, di radici di albero, di pino, cioè al di là della buca questo che non sa quello che deve fare e continua ad andare avanti, nonostante ciò ti ha visto, però te va avanti, perché a lui non gliene frega un cazzo, perché tanto male che va lo prendi te. Ecco, questa è la situazione, allora io sto in macchina, lo sto tenendo io il telefono, perché sennò sarebbe crollato, cascato migliaia di volte al secondo, e qui, vedi, attento qua, perché se prendi quella cosa in curva ti cappotti, questa è la nostra situazione nel 2015, cioè fanno tratti di strada e basta, comune di Roma, gentilmente, potresti rifare l'asfalto in questa via, per cortesia, che ci fa anche rima, perché è pericolosa, è pericolosa, molto pericolosa, soprattutto per gli utenti della strada stessa, come gli scuderisti, è molto pericolosa, gentilmente, fammi questo immenso favore di rifare la strada, ma lo chiedo, cioè lo chiedo proprio a nome di, credo, tutti quanti, se puoi fare la strada, perché oltre a sfasciare le nostre cazzo di macchine, le nostre macchinette, qualcuno potrebbe rischiare di farsi molto male, perché è una strada molto pericolosa, è inutile che metti il cartello 30 all'ora, ripristina la strada, perché è la cosa migliore, ok? Detto questo, un abbraccio a tutti quanti ragazzi, ci vediamo alla prossima, scusate lo sfogo, ciao ciao!